Torna il sorriso sul volto di Philippe Gilbert, dopo essersi aggiudicato la Vuelta a Mursia 2016. Il ballone, che non alzava le braccia al cielo dallo scorso mese di luglio, si è imposto nella manifestazione iberica, bruciando l'idolo di casa Alejandro Valverde in una giornata dal tempo proibitivo. Terzo posto per il russo Ilnur Zakarin del team Katyusha, che nulla ha potuto contro lo spunto veloce dei due atleti che l'hanno preceduto sul traguardo. Grazie a tutti.